Queste sono le foto scattate nei bagni del CUP dell'ospedale di Venere. Le immagini mostrano una situazione igienica disastrosa che, a detta di chi ce l'ha segnalata, si protraeva già da diversi giorni. Sicuramente venerdì, sabato e domenica, giorno a cui si riferiscono gli scatti. Noi siamo andati a verificare dal vivo e oggi negli stessi bagni abbiamo trovato una maggiore pulizia. Speriamo ora in una maggiore civiltà da parte di chi dovesse usare quegli ambienti e soprattutto una pulizia più frequente, perché è vero che la gente è incivile, ma siamo pur sempre nei bagni di un ospedale.